Se stai vedendo questo video sicuramente sei arrivato nel posto giusto. In questo canale YouTube ti fornisco indicazioni, pratiche, consigli e sistemi per guadagnare con il mondo delle scommesse sportive. Mi raccomando, se puoi ottenere questi video e questi consigli totalmente gratuiti, iscriviti tramite il famosissimo pulsante rosso al mio canale YouTube. Ma mi raccomando, clicca anche sulla campanellina in modo tale da ricevere gli aggiornamenti di tutti i miei video e perché no, seguirmi in diretta e confrontarti con me personalmente. Detto questo, ci vediamo ai prossimi video e mi raccomando iscriviti, iscriviti, iscriviti.